Il contrasto al traffico di migranti che interessa le coste ioniche del carattere le unità erano valide al reparto della guardia di minanza della Calabria con sede poco dopo però ricordiamo il natante è affondato il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione